Viaggiare in Europa e nel mondo, quando avviene molto spesso, può diventare un costo legato anche per quanto riguarda l'impiego delle tradizionali carte di credito che applicano tassi di cambio non sempre convenienti oltre a commissioni ad ogni impiego. Revolut è l'innovativa carta prepagata particolarmente indicata per chi viaggia molto, in quanto ad ogni uso viene indicato il tasso di cambio applicato, che sarà tra i più favorevoli e il suo utilizzo avviene senza fees. In questo video parleremo della carta Revolut e, inoltre, se siete interessati a leggere l'articolo piuttosto di vedere questo video, allora cliccate nel link in descrizione per l'articolo completo. Nel sito potete trovare anche tanti articoli sulle migliori carte prepagate dell'anno, ma adesso andiamo dritti al punto di questo video. Per quanto riguarda i costi relativi alla carta Revolut, bisogna distinguere tra il piano gratuito Revolut standard e il piano premium a pagamento. Nel caso si sottoscriva il piano standard, ottenere e utilizzare Revolut è assolutamente gratuito. Come anticipato, nessun costo viene adebitato per utilizzare Revolut, solo nel caso di richiesta di invio della carta di debito al proprio indirizzo viene richiesto un pagamento di 6€. Nessun costo, inoltre, è presente in fase di apertura account, di utilizzo dell'app, di ricaricamento importi sulla prepagata e nemmeno in fase di cambio valuta. Viene previsto un costo pari al 2% nei casi di transazioni superiori a 500 sterline o nel caso di prelievi superiori a 200€ mensili. Il piano standard è consigliato per coloro che utilizzeranno la carta come prepagata per i non frequenti viaggi all'estero. Il piano Revolut premium, invece, viene consigliato per coloro che intenderanno utilizzare Revolut come il proprio conto corrente principale o che viaggiano molto spesso all'estero. Il piano costa 7,99€ al mese e permette di non avere limiti in merito agli scambi e ai trasferimenti e nessun costo relativo a transazioni superiori a 500 sterline. Permette, inoltre, di ottenere una serie di assicurazioni quando si viaggia all'estero, quali assicurazioni mediche e assicurazioni in caso di smarrimento di bagagli e ritardi o cancellazione di voli. Revolut premium garantisce, inoltre, assistenza customer service prioritaria e, a chi è interessato, la possibilità di avere un accesso istantaneo alla contrattazione di 5 criptovalute. Per ultimo, chi sottoscrive Revolut premium otterrà una carta di credito con un design esclusivo, che verrà consegnata, se richiesta, senza alcun costo aggiuntivo, entro uno tra i giorni lavorativi in 180 paesi del mondo. Non ci sono limiti per quanto riguarda l'utilizzo, l'importo da ricaricare e le transazioni che vengono eseguite. Ci sono dei limiti a rispettare, invece, se non si vogliono sostenere dei costi aggiuntivi. In caso di conversione di valuta, se viene richiesto un cambio durante le ore di chiusura del mercato, nei weekend e nei giorni festivi verrà applicata una maggior azione sul tasso di cambio tra lo 0,5 e il 2%. Inoltre, c'è un limite di prelievo contanti che, se superato, comporta il pagamento delle commissioni. In caso di Revolut standard, il limite è fissato ad euro 200, mentre in caso di Revolut premium il limite è di 400 euro. Superata tale soglia, verrà applicata una commissione pari al 2% sull'importo prelevato. Attraverso la schermata principale dell'applicazione è immediatamente visibile all'utente tutta la movimentazione avvenuta sulla propria carta, quindi eventuali ricariche, spese e relativo saldo disponibile. Inoltre, attraverso l'app è possibile consultare statistiche di spesa, suddivise anche per categorie, aggiornate in tempo reale. Dalla stessa app è possibile, in maniera veloce e intuitiva, convertire un importo in un differente valuta. Bisogna inserire l'importo che si vuole convertire, selezionando la valuta di conversione. Immediatamente viene indicato il cambio proposto e il cliente può concludere o meno la conversione. Tutto questo avviene senza costi. Le modalità di ricarica della nuova card Revolut sono le medesime sia nel caso della prima ricarica, necessaria per attivare la carta, che per le successive. Caricare il proprio account può avvenire con un bonifico o attraverso l'utilizzo di una carta di credito o di debito. Il trasferimento di denaro con bonifico bancario deve essere eseguito a favore dell'Iban che viene comunicato al cliente all'interno dell'app al momento dell'apertura dell'account Revolut. L'Iban è estero, precisamente inglese, ma deve essere eseguito un normale bonifico SEPA e non un bonifico estero. Se il cliente vuole caricare il nuovo conto Revolut utilizzando carte di credito o debito, è necessario che la carta utilizzata per il pagamento sia abilitata ai pagamenti online e deve presentare un numero PAN di 16 cifre, oltre ad utilizzare il sistema di sicurezza 3D Secure. Per richiedere ed utilizzare Revolut è necessario scaricare l'applicazione, compatibile con Android e iOS, creare un account, inserire quindi i propri dati anagrafici e la copia di un proprio documento di identità. Successivamente bisogna procedere a caricare sulla nuova carta Revolut una somma di denaro da conto corrente con bonifico bancario o con l'utilizzo di un'altra carta di credito o prepagata, senza nessun tipo di costo richiesto da Revolut. Eventuali costi possono essere richiesti in fase di realizzazione del bonifico o di trasferimento da carta di credito dal proprio istituto bancario. Non appena l'account è attivo, il cliente riceve una carta prepagata virtuale, ma attraverso l'app si può richiedere l'invio della carta Revolut in plastica all'indirizzo prescelto o al tuo indirizzo. La card può essere utilizzata sempre attraverso l'applicazione dedicata, per eseguire bonifici in uscita e inoltre i clienti possono inviare e ricevere soldi attraverso la funzionalità P2P con altri utenti Revolut e anche in questo caso senza nessun costo. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in Italia al momento. Ci vediamo al prossimo!